Il Mann aveva già affrontato nel 2015 il tema dell'uomo e l'ambiente nel mondo antico con la mostra Mito e Natura, una mostra che portò delle novità, anzitutto fu lo stimolo per riaprire i giardini del Mann e in secondo luogo dimostrò che il rapporto uomo-ambiente nel mondo antico non sempre fu felice e il caso classico dei fenici che desertificarono l'antico Libano per i cetri del Libano è esemplare. Quindi l'uomo spesso non ha imparato da se stesso e allora il museo ci riprova, ci riprova proponendo ai giovani e alle scuole questa tematica che ahimè è estremamente attuale e cercando di essere un educatore non solo rispetto ai temi del mondo antico e della bellezza ma anche organismo e soggetto attivo dell'attualità. Capire il cambiamento climatico partendo dagli errori del passato. Al Museo archeologico nazionale di Napoli una mostra introduce il fenomeno del riscaldamento globale e dei suoi effetti sul clima. Nel percorso espositivo fotografie e filmati del National Geographic come contributo per creare ambienti immersivi con esperienze olfattive e sensoriali con quattro testimonianze dagli esseri che soffrono per i mutamenti dell'habitat. L'orso polare per il ghiaccio, la tartaruga marina per l'acqua, l'elefante asiatico per la terra e l'uomo per la plastica. È un tema che sta attraversando le coscienze degli abitanti del pianeta e ognuno deve fare la sua parte anche scuotendosi e guardando le immagini si comprende quanto l'uomo negli ultimi anni ha distrutto e quanto lavoro si deve fare per evitare la dissoluzione del pianeta. A noi ci crediamo e quindi anche nella nostra città in tanti sono impegnati, noi per primi e quindi credo che questa è la sfida dei prossimi anni in cui i popoli si devono unire per difendere il pianeta.